Sergio bravo bravo no no di lì va bene vai in alto eh Sergio vai in alto eh non chiudere subito devi puntarla qua eh perché così la punti alta poi la giri se cerchi di chiudere cadi giù bravo così e lì se vuoi esagerare esagera cazzo ci fai di lì bravo oh qua eh guardami qua eh non pensare di girare eh non girare qua cazzo io l'ho sbagliato no da lì non ce la fai eh Ale devi andare lì eh la fai anche da lì Miki mi sposti che tu guardi peggiori stai lì, stai lì io l'ho sbagliato l'ho fatto lì giusto ma dopo ho girato fuori perché mi son cagato no, se lo fai devi farlo velocissimo no, perché è vicido perché è vicido io gli ho dato bene lì quando ho sentito che il dietro è cominciato ad andare via l'ho molata giù perché cazzo non arrivi in alto in alto deve andare su di terza ma forte e se sbagli il capote indietro c'è lì quel sasso che ti guarda come l'altra volta no, qua hai fatto giusto fatto giusto e poi si è saltato fuori fatto bene Frank, io mi metterei diritto il culo un po' di là ancora 10 col culo, no col davanti boom a posto oh qua è il davanti qua non qui è qua il davanti e dopo giri è una salita perché? perché? perché sento che c'è il minimo basso e tutto è tutta la mattina che c'è il minimo basso cazzo prendilo e alzalo figaro che diavolo non ce la faccio è duro non so se si è alzato è duro buongi dietro bene vai vai boh fampi o qua è qua non girare è qua col davanti bravo sasso sasso eh ma io perdo ho aspettato troppo gli ho dato che ormai ero qua quando sono arrivato lì ho sentito che no ma non rischi un cazzo dovevo dargli prima se aspetti troppo quando arrivi qua comincia a scivolare dopo ti porta fuori bravo ho aspettato troppo devo dargli prima se sbagli sotto con roba li fai no ma non no ma non Sì?